C'è la bocca, ma fai con su va, ma mi metto il genio di andà. Anni, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag. Azz, è pure saporito. Panificio Guccione, premio Best Sicily come miglior fornaio. Pane nero di Castelvetrano con lievito naturale crescente, cotto a legna con farina di tumminia macinata a pietra, pizza al taglio, biscotti, pasta e tanti altri prodotti realizzati con metodi antichi e artigianali. Panificio Guccione, fedeli alla tradizione. Sede unica Palermo, in via Pipitone Federico 61. In una sua celebre canzone Vasco Rossi dice Voglio trovare un senso a questa vita, parafrasando le parole del comandante potremmo dire Vogliamo tutti quanti trovare un senso a questo finale di stagione, nella speranza che possa essere propedeutico per quello che al momento resta solo un grandissimo sogno, quello dei playoff. Eppure, aritmeticamente, quindi manteniamo i piedi per terra, aritmeticamente lo ribadisco, solo parlando di numeri e statistiche, guardando la classifica, vediamola subito, regia coordinata da Roberto Lombardo e Giancarlo Sardo, il Palermo potrebbe ancora sperare, per tante motivazioni. In primis perché la classifica attuale dice che l'ottavo posto dista soltanto due punti, quindi vediamo diverse squadre, e poi si parla di un possibile nuovo deferimento per la regina, che rischia dai 5 ai 7 punti di penalizzazione, considerando recidiva la sua situazione. Quindi i numeri dicono che una squadra modesta, per quello che stanno dimostrando essere le prestazioni, come è il Palermo, ancora questa squadra può sperare nei playoff. Ma la domanda, come direbbe il grande Lubrano, sorge spontanea. Alla luce di questo cammino assolutamente negativo, lo ripetiamo, una vittoria nelle ultime 11 partite, con 7 pareggi e 3 sconfitte, questa squadra ha, dal punto di vista psicologico, le forze per rialzarsi e arrivare tra le prime otto, vedremo quello che succederà. Insomma, manca poco, mancano quattro giornate, considerando quella dell'1 maggio in trasferta al Sinigaglia contro il Como. Siamo curiosi di sentire il vostro parere, perché lunedì ci avete letteralmente bombardato di telefonate, di messaggi e noi vi ringraziamo. Oggi invece è puntata dedicata ai social, quindi con noi Gabriella Di Carlo. Ciao Gabriella. Ciao a te Simone e soprattutto ciao a tutti voi. Sì, come sempre siete tantissimi a seguirci e noi adesso vi diamo tutti i riferimenti social, perché ogni volta i vostri commenti diventano per noi davvero degli interessantissimi spunti di riflessione per poter approfondire determinate tematiche. E allora come seguirci? Gold Sport, 7 Gold Sicilia su Facebook, tifosipalermo.it, anche ovviamente il canale YouTube. E continuate a scriverci, a seguirci e noi leggeremo i vostri commenti in diretta. Ma come ogni giovedì, come in tutti gli appuntamenti di speciale Gold Sport, Simone, non mancano di certi i nostri ospiti e amici. Assolutamente, ci è venuta a trovare spesso quest'anno e noi siamo veramente contenti. L'amica e collega di Palermo Live, Francesca Catalano. Ciao Francesca, grazie per essere con noi. Ciao Simone, buonasera, buonasera a te Gabriele e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Grazie sempre per l'invito, è sempre un piacere essere qui con voi. Il piacere, come dicevo, poc'anzi è il nostro. Francesca, partiamo dall'ultima deludente prestazione del Palermo contro il Benevento. Allora, qualora fosse stato considerato il gol di Jérémy Brot, probabilmente sarebbe stato un modo per mascherare comunque una prestazione assolutamente negativa della squadra, poi però il VAR ha optato per la cancellazione del gol. Però partiamo da questa prestazione. Sì, sono assolutamente d'accordo con quanto hai detto tu, perché anche se quel gol di Brot fosse stato, l'avrebbero convalidato, lo stesso avremmo parlato di una prestazione deludente, perché da un paio di partite a questa parte vediamo un Palermo decisamente sotto tono, un Palermo che continua a prendere colpi, incassare colpi e non reagire, perché se per un periodo, all'inizio di questo campionato, abbiamo visto proprio un Palermo del genere, un Palermo che soffriva molto, che quando subiva un gol subito si arrendeva, per un periodo abbiamo visto invece un Palermo che sembrava aver trovato una quadra perfetta, una squadra che quando andava sotto di qualche gol, e lo abbiamo visto soprattutto in ben quattro partite se non di più, in cui il Palermo già nei primi cinque minuti, dieci minuti subiva gol, poi scendeva negli sfogliatoi e tornava con un piglio decisamente diverso, che è quello che poi abbiamo apprezzato di questa squadra. Una squadra che sembrava aver trovato la quadra giusta, un equilibrio perfetto fra, diciamo, sana follia e la giusta tattica che serve, e la giusta tecnica è stata buona in campo. Adesso abbiamo nuovamente visto un Palermo, vediamo un Palermo che quando subisce dei gol non riesce più a rialzarsi. Forse appunto è questa la cosa che fa più male, appunto al di là delle varie situazioni tattiche e tecniche che ancora Corini a quattro giorni dalla fine del campionato continua forse a non aver capito come schierarli bene in campo, come lo stesso lui ha dichiarato durante alcune conferenze stampa. Eh sì, diciamo che le ultime conferenze stampa di Corini andandono a sondare il termometro del tifo rosa nero non sono state particolarmente gradite non solo dai nostri amici a casa, ma anche dai tanti commenti che arrivano proprio all'interno della pagina Facebook ufficiale del club di Viale del Fante. Qualche conferenza stampa dietro Eugenio Corini, che è una persona molto diplomatica che si scompone raramente, aveva dichiarato dobbiamo provare ad alzare l'asticella. Poi le sue parole sono state interpretate, secondo me, male, quando ha detto con leggerezza dobbiamo puntare ai play-off. Io, che sono un grande, purtroppo per noi, insomma, critico nei confronti di Corini, la nostra è una linea assolutamente libera, una trasmissione libera, ma lo dicono i numeri, non è che mi sveglio per parlare male di Corini con quest'intento. L'ho difeso in quella circostanza perché ho letto dei commenti veramente pesanti. Va bene il Corini out, si può dire Corini non mi piace come allenatore, ma ho letto alcuni commenti molto pesanti che sono andati a toccare il personale. Questo noi lo condanniamo sempre. Però quello che dice Francesca Catalano è assolutamente condivisibile. Le scelte non sempre sono state lungimiranti. Perché, Francesca, lasciamo perdere l'esperimento segre a destra nella partita col Cosenza, perché un errore lo possono fare anche i grandi allenatori. Io penso quando Baldini, in Serie C, sbagliò completamente la formazione, per sua stessa ammissione col Foggia, e finì 90-0 per la squadra all'epoca allenata da Zeman. Però qui è un reiterarsi di errori anche in corso d'opera, anche nella lettura della gara. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Proprio nella partita in cui hai citato tu poco fa, diciamo che già la partita non era iniziata nel migliore dei modi, perché appunto è vero che Corini, lo sappiamo e lo abbiamo visto, sta risentendo molto di questa assenza di Di Mariano. Al suo posto sappiamo l'unico che può sostituirlo nel migliore dei modi è Valente. Un Valente che in quell'occasione è stato messo da parte per provare, diciamo, questo esperimento che aveva già provato durante gli allenamenti e quindi ha spostato Segre e lo ha messo esterno-destro. Però il problema, appunto, come dici tu, è anche poi di lettura della partita, perché va bene, poi a un certo punto lo togli, lo sposti, fai subentrare Valente, però non lo metti nel suo ruolo naturale, addirittura me lo vai a mettere a sinistra, mi sposti Aurelio, l'unico praticamente terzino-sinistro, che secondo appunto lo stesso Corini, l'unico in condizioni di stare lì, un giocatore che nonostante sia giovane riesce non solo a fare il ruolo di esterno-sinistro, ma anche nel reparto offensivo è molto buono, l'abbiamo visto anche con il gol siglato contro il Modena. Al posto suo appunto metti Valente e lo sposti lui verso il centro. Diciamo un po' di confusioni che giorno dopo giorno continuiamo a vedere nelle scelte tattiche del mister. Un allenatore che appunto a quattro giorni dalla fine appare un po' troppo confuso ancora con queste scelte. Potevamo capirlo, potevamo capirlo appunto all'inizio di questo campionato, perché abbiamo visto il City e comunque il Dario Miri hanno fatto veramente tanti acquisti e giocatori che non si conoscevano che appunto dovevano integrarsi fra di loro. A un certo punto sembrava che Corini fosse riuscito a integrarli bene, a trovare la giusta quadra, poi in realtà adesso continuo ancora a dire che forse deve studiarli meglio. Ci sono anche alcuni oggetti misteriosi di questo calciomercato, penso per esempio a Oricuela, che quando arrivò a Palermo non arrivò verso dicembre. No, più tardi di dicembre, però non giocava dal 26 di novembre, eppure non gli è stata concessa neanche un'occasione, non tanto dal primo minuto, ma penso a quella partita nella quale Corini preferì addirittura Lancini, che potrebbe andare fuori rosa qualora dovesse recuperare Stulac. Infatti il problema è stato anche quello, lì a un certo punto c'era Sala, che appunto era rientrato da pochissimo, anche se nella partita seguente lo abbiamo visto addirittura partire da titolare. A quel punto ha scelto di schierare in campo un giocatore come Lancini, che si sa dalla chiusura di questo calciomercato invernale era stato dichiarato come attualmente in rosa, ma nel momento in cui rientrerà Stulac, verrà automaticamente messo fuori rosa. A quel punto appunto ci sono tantissime domande che sorgono, perché ok che c'era Sala, che era rientrato da pochissimo, veramente forse uno o due giorni, c'era anche però un Matteo Brunori e un Valerio Verre che erano rientrati da poco e li ha messi i titolari, e poi effettivamente non hanno reso al massimo. Ci sono veramente tantissime cose che ancora sono poco chiare. Assolutamente sì. Andiamo però a vedere e a sondare anche noi quest'oggi all'interno di speciale Gold Sport del giovedì, quello che è il parere dei nostri amici da casa. Allora Simone, io non so se tu abbia già detto qualche messaggio, perché vedi in questi momenti non esce soltanto il malcontento dei nostri tifosi, ma anche la loro ironia. Sì. E che cosa posso dirti? Ernesto ci dice senza gioco non si può sognare. Poi invece abbiamo Lorenzo che invece dice, e questa è anche un po' di ironia, buon pomeriggio dottora Ribani, sono convinto che ai playoff ci arriviamo e sono convinto che qualcosa succederà. Perché? Perché c'è il cuore rosa nero e forza Palermo sempre. Andiamo invece avanti con i commenti un po' più, che sottolineano il più il malcontento. Manuk dice regina breve sette punti di penalizzazione, siamo ai playoff. Quindi anche in questo caso c'è un po' d'ottimismo. Salvatore, buon pomeriggio da Torino. Dopo la edificante prestazione con il Benevento, mi viene da pensare che il Palermo scarico di testa nelle gambe. Io sarò a Como, ma lo vedo abbastanza dura. Sempre Salvatore, ma non è che non gradiamo le conferenze stampa. Il problema è che, riferendosi a Corini, dice sempre le stesse cose. Certe volte degli errori abbastanza pacchiani vengono mascherati molto male. Un'altra cosa, chiedo un vostro parere. Io vedo Corini molto confuso. Per esempio, il cambio di Verre voluto da lui, lo tira fuori dicendo che la squadra non lo supporta. Francamente è un assurdo e chiede il vostro parere. Sentiamo il parere di Francesca. Relativamente, insomma, però io mi metto nei panni di un allenatore, che è un tesserato di una società, che inevitabilmente deve portare acqua al proprio mulino. Quando le cose non vanno male, che cosa deve dire? È sempre mia colpa, mia colpa, mia colpa. Anziché vedere Corini, potremmo rivedere Tutino. Perdona, Tedino. Sembrerebbe quello. Le cose oramè non vanno. Sì, 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 le cose non vanno ed è chiaro a tutti. Un Corini, che come appunto scrivevano i nostri amici da casa, continua a fare delle conferenze stampa che creano un po' di malcontento generale. Delle conferenze in cui, sin dall'inizio praticamente del girone di ritorno, Corini continua a vedere delle cose positive. Effettivamente forse delle cose positive ci sono state, soprattutto nel periodo in cui il Palermo continuava a collezionare questi risultati utili positivi, che non erano appunto delle vittorie, ma erano comunque dei pareggi. Un Palermo che comunque, in questo momento lo vedo, è davvero scarico. Sta perdendo tante e tante occasioni, perché se c'è stato un momento in cui il Palermo riusciva a stare al passo in una classifica che è sempre stata corta dall'inizio di questo campionato, adesso invece la classifica è corta. Ci sono tantissime penalizzazioni, perché purtroppo quest'anno stiamo vedendo tantissime squadre che stanno perdendo dei punti e la classifica sta un po' rallentando. Il Palermo potrebbe sicuramente cominciare a camminare un po' più veloce. La classifica sta rallentando, stanno scendendo delle squadre, ma anche il Palermo sembra non procedere così divinamente. Un Palermo che potrebbe approfittare di queste situazioni, in un Palermo che potrebbe essere con un Pio diverso e forse cavalcare ancora di più queste sfortune che stanno capitando. C'è stato questo su e giù. Ricordi quando il problema erano le trasferte che dicevamo sembrano Dottor Gekyll e Mister Aide si trasformano e poi invece purtroppo anche in casa c'è stato questo continuo. Molti nostri tifosi sai come l'hanno chiamata? Mancanza di identità a volte. Sì, è vero, purtroppo da questi risultati utili consecutivi abbiamo cominciato a vedere un Palermo che non solo perdeva fuori caso ma anche il Barbare che era un fortino per eccellenza di questa squadra rosa-nero ha cominciato ad essere un po' più debole. Una squadra che è vero e sembra non avere questo famoso entusiasmo che poi mi piace sempre dire è quello che ha portato a fare la splendida cavalcata che abbiamo visto lo scorso anno con Baldini e con tutta la rosa che ha portato il Palermo in Serie B. Un Palermo su cui nessuno avrebbe scommesso una lira e invece ha poi dimostrato con l'entusiasmo, con la giusta mentalità di riuscire a vincere e lo ha fatto. Il problema secondo me è che è venuto meno qualcosa. Non so se dal punto di vista tattico, non so se dal punto di vista psicologico probabilmente la verità sta nel mezzo ed è una serie di combinazioni che hanno portato poi a questo momento negativo vissuto dalla squadra però come diceva Francesca ci sono state sicuramente delle giornate nelle quali tu dovevi approfittare dei grandi passi falsi delle tue tra virgolette competitors perché comunque questo è un campionato nel quale in due partite, in due giornate può essere completamente rivoluzionata la classifica che ancora potrebbe essere modificata come dicevamo dall'imminente che quasi molti lo danno per certo come il collega della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, deferimento per la regina. Però qui secondo me Francesca non è più un problema di moduli o di interpreti è forse questa consapevolezza di non riuscire a fare il passo più lungo ora che è il momento decisivo della stagione. Che poi effettivamente è quello che c'è stato perché il Palermo a un certo punto è stato chiamato a fare il famoso esame di maturità un Palermo che è riuscito a superare divinamente diciamo tutto il campionato perché comunque lo abbiamo visto ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato la società all'inizio e dunque il campionato tranquillo rimanere in Serie B, consolidarsi qui in Serie B a un certo punto poi si è alzata l'asticella, un po' tutti hanno alzato l'asticella a dire la verità i tifosi rosa-nero sin dall'inizio sognavano subito questi play-off non dico la promozione diretta perché è un po' forse un po' troppo però già sognavano di entrare a far parte di questi play-off a un certo punto anche la società stessa, il tecnico Eugenio Corini hanno un po' alzato l'asticella l'abbiamo visto anche durante il ritiro a Girona che abbiamo visto uno striscione con scritto andiamoci non so chi l'abbia messo, se l'ha messo la società appunto che ha ospitato il Palermo se l'hanno portato addirittura loro però c'è stato questo andiamoci che mi ha colpita particolarmente in quelle occasioni anche il tecnico appunto dichiarava apertamente che la squadra stava cercando di dare il massimo per qualificarsi i play-off addirittura in una posizione favorevole per appunto le varie qualificazioni poi a un certo punto il Palermo subito non è riuscito a superare questo esame di maturità e forse questo ha portato anche un po' di scoraggiamento all'interno della squadra perché subito appunto come dicevo non è riuscito a fare il passetto in più e ancora oggi non riesco a fare il passetto in più addirittura contro l'ultimo in classifica il Palermo ha avuto seri problemi contro il Venezia io veramente ho visto una partita che non mi aspettavo completamente molto soporifera gioco che latitava grande approssimazione io veramente siamo arrivati la prossima vado a memoria la 35esima giornata quella che si deve ancora disputare in casa del Como al Senigai faccio difficoltà a capire realmente quello che dovrebbe essere il gioco del Palermo siamo praticamente a quattro giornate dalla fine non c'è un'idea di base ben definita qual è il modo di attaccare per via centrale allargare gli spazi tante incongruenze anche in fase di costruzione della manovra abbiamo visto Claudio Gomez che in un momento della stagione era uno dei più brillanti era il motore, era il fulcro del centrocampo anche se non è un regista old style il problema è che ora lui è in fase calante e questo ne fa risentire al centrocampo sì, 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 assolutamente vero perché a un certo punto abbiamo visto un Gomez che riusciva quantomeno ad arginare questa situazione sempre con questi famosi lanci orizzontali a differenza di un Samuel e Damiani che quando lo vediamo in campo riesce a impostare bene appunto i movimenti con anche lanci più lunghi che purtroppo vediamo poco in questo centrocampo un centrocampo che come ben dicevi tu in questo momento sta risentendo parecchio perché proprio nelle ultime partite vediamo sempre di più un centrocampo che fa fatica fa fatica a creare, fa fatica ad arginare e lo vediamo anche nei singoli perché c'è stato appunto il momento in cui abbiamo visto questo exploit di Valerio Verre che era riuscito finalmente ad emergere del tutto adesso si è nuovamente spento e un Saric che c'è stato un momento della stagione sempre nel momento in cui stava splendendo anche Valerio Verre in cui sembrava che realmente mancasse quel famoso quid in più che poi era il gol veramente un centrocampo che sta faticando tanto ed è un peccato perché è appunto forse quello che dovrebbe creare maggiori azioni impostare tutto il centrocampo fa fatica e ancora non capisco perché non si fanno questi famosi cambi di cui si parla tanto l'abbiamo visto c'è stata una partita in cui purtroppo per motivi di salute Gomez è stato assente al suo posto lo ha sostituito Samuele Damiani devo dirti la verità ho visto un Samuele Damiani che è entrato bene nella parte è riuscito ad impostare bene le linee di questo centrocampo non stiamo parlando di un regista di spessore internazionale però quantomeno ha geometrie ha una visione di gioco anche un po' periferica e questo consente alla squadra di poter smistare quantomeno sulla carta meglio i palloni e gioco forza prima di andare in break Francesca ti chiedo adesso è ufficiale mancherà Saric per quel che riguarda la prossima trasferta contro il Como andiamo a vedere a tal proposito il report di giorno 26 perché Dario Saric è stato sottoposto ad indagini strumentali al Policlinico di Palermo dal professore Cimino che hanno evidenziato una lesione distrattiva di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro fortunatamente sono state escluse lesioni osse però il centrocampista deve iniziare il suo percorso di riabilitazione poi il lavoro differenziato tra campo e palestra per Stulaz mentre Aurelio ha iniziato la fase di riatletizzazione questo per quel che riguarda il comunicato di ieri quello di oggi dice invece che c'è stato un allenamento mattutino del Palermo sotto le direttive tecnico-tattiche di mister Corini a Renzo Barbera dove si è effettuato l'allenamento i Rosanero hanno svolto attivazione circuit training in palestra un circuito tecnico poi un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema ritorno alla domanda che stavo facendo a Francesca mancherà Saric a questo punto non far giocare neanche in questa situazione particolare a livello di infermeria Damiani sarebbe un accanimento diciamo così sì sono assolutamente d'accordo in questo caso praticamente secondo me Corini dovrebbe scegliere appunto di schierare spero questo famoso duo insieme formato da Gomes e Damiani che diciamo lo auspico da molto tempo in realtà questa questione di Damiani l'ho anche notato nella scorsa partita che praticamente dove esserci una sostituzione una famosa sostituzione il tecnico ha preferito fare entrare subito Bro e lasciare Damiani in panchina un Bro che era non esce mai Gomes anche può essere stremato lui gioca sempre no ma io in realtà non vorrei proprio del tutto toglierlo ma magari spostarlo no 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 quindi farli giotare insieme la loro coesistenza è una cosa assolutamente fattibile esatto perché ci possono essere delle preferenze dal punto di vista tattico nella testa di un allenatore un altro insostituibile è Mateju tu puoi prendere Maldini dei Tempi d'Oro no preferisco Mateju sto scherzando sto estremizzando l'ultima partita è stata messa nella top 11 della Lega B sì che voglio dire è Mateju e lo diciamo sempre all'interno delle nostre produzioni sportive del nostro telegiornale se uno va a guardare le prestazioni della difesa è il meno peggio è comunque uno dei più positivi ed è quanto dire però dico come sei fissato con Mateju posso capire anche la tua predilezione per Claudio Gomez però soprattutto adesso che manca Saric puoi mettere Damiani playmaker basso Gomez e Verre ai suoi lati esatto sono d'accordo che poi è quello che fondamentalmente mi auspico già da un po' di tempo da quando ho praticamente cominciato a vedere Gomez un po' spento che fatica un po' a creare queste situazioni di cui parlavamo poco fa mi chiedevo appunto perché non schierare Damiani il regista affiancato da D'Averre e Gomez insieme e speriamo di vederlo appunto contro il Como vediamo cosa ne pensano i nostri amici subito dopo il break pubblicitario scatenatevi perché a rientro tra le tante domande vi chiederemo è arrivato finalmente il momento di Damiani in cabina di regia nella trasferta col Como oppure ancora Damiani partirà dalla panchina punto interrogativo sentiamo il vostro parere dopo un piccolo break caffè 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 quando si amare ci duce sono chi ma piccio la bocca ma fai con su va ma mi è tu geni e cantano anì è il nome del caffè Panificio Guccione premio Best Sicily come miglior fornaio pane nero di Castelvetrano con lievito naturale crescente cotto a legna con farina di tumminia macinata a pietra pizza al taglio biscotti pasta e tanti altri prodotti realizzati con metodi antichi e artigianali Panificio Guccione fedeli alla tradizione sede unica Palermo in via Pipitone Federico 61 abbiamo una bella sorpresa per tutti gli amici che seguono speciale Gold Sport come ben saprete la prossima partita del Palermo è in programma l'1 maggio alle 12.30 allo stadio Sinigai partita tra Como e Palermo in quell'occasione anche per la fascia oraria e per la giornata di festa salterà speciale Gold Sport linea diretta del lunedì ma abbiamo questa bella sorpresa per voi martedì 2 maggio alle 18.30 dedicheremo più di 45 minuti non so la nostra regia fino a quando mi consentirà di fare la trasmissione con la linea diretta dunque martedì 2 maggio a partire dalle 18.30 sul canale 15 della nostra emittente Telerenza 7 Gold Sicilia un ampio approfondimento sportivo anche con le chiamate in diretta in quel caso visto il palinsesto non andremo su Facebook all'interno della nostra pagina poi riprenderemo ovviamente con la programmazione canonica però segnatevi questo appuntamento tutti gli amici che ci seguono dalla Sicilia possono chiamare in diretta martedì 2 maggio dalle 18.30 ovviamente all'interno della nostra linea diretta che eccezionalmente non sarà il lunedì bensì il martedì visto che l'1 maggio siete tutti a festeggiare beati voi davanti la vostra bella grigliata scherzi a parte vediamo i nostri amici cosa pensano non so di Damiani o di quello che dicono loro Simone già qualcuno ti sta rispondendo c'è Gaetano Morfino che dice secondo me per come pensa Corini credo che il centrocampo sia formato da Gomez, Verre e Segre Alessandro Calderone comunque altre squadre l'anno scorso che hanno lottato per la promozione si trova nell'ultimo posto quest'anno diciamo che la Serie B è molto difficile dare tutta la colpa a Corini non mi sembra giusto vediamo il Cagliari di Ranieri quanti punti in più ha del Palermo e ancora Samuele e il Parma non doveva essere penalizzato Massimiliano salve a tutti a voi in studio Corini o non quello che mi dispiace è che la squadra avendo già raggiunto la quasi certezza della salvezza non riesca ad avere la mente libera giocando con fluidità tra i reparti se poi si sentono pressati per il raggiungimento dei playoff allora cambino mestiere saluti da Melilli e ancora Simone Salvatore dice al posto di Sarici secondo me giocherà Segre sempre Salvatore fa un'analisi 43 gol subiti sinora in questa stagione ad ogni calcio d'angolo un pericolo costante basta questo per comprendere il livello definito da Salvatore mediocre della difesa difesa e centrocampo da ricostruire per il prossimo anno con un nuovo secondo lui allenatore dalla mentalità vincente c'è invece chi continua a restare ottimista e positivo Lorenzo in queste quattro partite prenderemo nove punti tranquilli io ci credo cuore rosa nero forza Palermo speriamo speriamo che sia così e speriamo che questo entusiasmo travolgente possa trovare pieno riscontro possa trovare pieno riscontro attuazione anche con i risultati io forse anche un po' per scaramanzia alla luce di quello che ho visto non sono così ottimista però voglio dire spero di essere clamorosamente smentito perché tutte le vittorie del Palermo sono assolutamente da celebrare da festeggiare però Francesca diciamolo chiaramente alla luce di quello che abbiamo visto sperare ipotizzare tutti questi punti cosa che ci auguriamo sia chiaro sì assolutamente una cosa che ci auguriamo certamente però un Palermo che davvero ha fatto fatica a raccogliere punti ha veramente avuto tantissime occasioni per fare questi famosi punti che in questo momento ci avrebbero portato a parlare di tutt'altro posto in classifica un Palermo che abbiamo visto ha collezionato solamente una vittoria in 14 partite se non sbaglio davvero la vedo un po' dura perché in questo momento oltre a esserci problemi appunto i famosi problemi in campo tattici che abbiamo già nominato ci sono questi famosi problemi legati alla mentalità al modo di affrontare le partite come dicevo poco fa in questo momento vediamo una squadra che fa fatica a reagire fa fatica a ribaltare il risultato al di là appunto della scorsa partita in cui il famoso gol di Bro avrebbe potuto ribaltare tutta la partita e magari far vincere il Palermo però come ha detto lo stesso Corini in quel momento si è trattata di mera fortuna e non appunto di qualcosa veramente studiata e organizzata nel migliore dei modi perché vedi quel gol come dicevo nell'incipit della nostra trasmissione avrebbe regalato una vittoria molto ecco non voglio sbagliare nei termini non esattamente veritiera perché sarebbe stato conquistare un un successo non meritato non è che il Benevento abbia fatto chissà che cosa però nella box a volte gli incontri quando sono veramente tirati si vanno ad attribuire le vittorie dei competitors si attribuiscono ai punti ecco ai punti forse il Benevento avrebbe meritato qualcosina in più il pareggio è alla luce del gioco visto dalle due squadre il risultato più corretto una vittoria non sarebbe stata sbagliata poi possiamo disquisire però a volte le vittorie arrivano sarebbe stato però fumo negli occhi senza girarci troppo intorno sì sì sono assolutamente d'accordo ma come per l'ultima partita contro il Benevento in realtà anche contro il Cosenza una squadra che come sappiamo sta lottando per salvarsi e per non rientrare in questa famosa rovente zona play out anche in quel momento abbiamo visto un Cosenza al quale è stato annullato il gol del raddoppio ma se avesse vinto non avrebbe rubato nulla a questo Palermo apparso nettamente scarico rispetto ad alcune giornate in cui avevamo trovato quel famoso equilibrio la cosa che fa diciamo un po' male se così vogliamo dire è che lo stesso Corini in una conferenza stampa ha detto che vuole trovare questo famoso equilibrio che serve poi per vincere e affrontare bene le partite l'equilibrio è appunto ma lo vuole trovare quando esattamente perché il campionato è finito quando lo vogliamo trovare a quattro giornate alla fine il campionato è finito io ricordo per la serie corsi e di corsi storici quello che si verificò nella passata stagione quando la squadra all'epoca guidata da Baldini non riusciva a trovare la quadra a tre giornate dalla fine della regular season c'erano tante sconfitte tanti pareggi un gioco approssimativo poi quel viaggio mistico della squadra insomma chi parlò di fede Baldini parlava di fede di crederci eccetera consentì al Palermo di sbancare tutto ai playoff ma secondo te ci sono queste stesse possibilità lasciando perdere il campionato la difficoltà gli avversari che sono di altro calibro e livello rispetto può succedere perché siamo lì in quella zona quattro giornate il momento è quello diciamo in realtà credo che quella cosa non possa capitare semplicemente perché Baldini e Corini sono due allenatori nettamente diversi uno come sappiamo è un po' più sognatore vede il calcio in modo romantico l'altro invece molto più pragmatico un allenatore che secondo appunto i suoi appunto quello che ha sempre dichiarato un percorso che è iniziato all'inizio di questa stagione sta continuando ma un percorso che secondo lui doveva andare così era tutto programmato diciamo la crescita è graduale invece un Baldini che come sappiamo ha poi avuto questo exploit ma non era programmato per nulla diciamo un allenatore che ha sempre puntato a vincere a guardare oltre l'obiettivo è un po' quello che Corini resta un po' più con i piedi per terra quindi penso che questo famoso entusiasmo che poi ha portato il Palermo a vincere i playoff di Serie C difficilmente lo vedremo con questo allenatore poi ovviamente mai dire mai non si sa che magari anche questa volta arrivati alla terza giornata alla fine di questo campionato ci sia questo famoso explodi della squadra ci sia questo cambio di mentalità e possiamo vedere il Palermo affrontare i playoff me lo auguro quello che sta succedendo ed è una cosa per me molto triste perché tutti indipendentemente dall'andazzo del campionato del Palermo siamo legati alla figura almeno dal punto di vista umano di Eugenio Corini che è stato uno dei più grandi capitani se non il più grande della storia del Palermo e mi dispiace vedere anche tutti questi commenti negativi che per carità in parte possono anche essere condivisibili considerando le prestazioni come dicevamo i numeri una vittoria appena nelle ultime undici giornate eccetera però mi dispiace dal punto di vista personale perché Corini aveva sempre costruito con i suoi straordinari meriti tecnici una grande figura no Francesca e quello che sta succedendo in questo campionato sta andando un po' a ridimensionare la storia stessa del Corini uomo grande trascinatore grande condottiero adesso purtroppo di Corini la gente non pensa più alla fascia di capitano ai suoi lanci lunghi per Zizu Zauli o per Luca Toni adesso la gente pensa a queste prestazioni sì è assolutamente vero perché comunque il palermitano ha sempre visto Eugenio Corini come il capitano che riusciva a trascinare l'intera squadra faceva un po' anche da allenatore tra virgolette se così possiamo dire di tutta la squadra riusciva a trascinarli a mettere la giusta mentalità a tutti per riuscire ad affrontare le partite che li aspettavano invece quello che vediamo adesso sembra essere un Corini nettamente diverso un Corini che non riesce ad imprimere questa sua voglia di vincere quella che vedevamo quando lui stesso era giocatore non riesce ad imprimere i suoi giocatori quello che in realtà vorrebbe vedere è tutta la piazza rosa nero perché sappiamo la piazza rosa nero è una delle più pretenziose che ci siano una piazza che tende a sognare molto infatti proprio per questo motivo forse si trova molto bene con Baldini perché come il tecnico punta sempre in alto vuol sempre vincere Corini invece da allenatore sta dimostrando di essere un uomo molto razionale un uomo che vive diciamo alla partita vede lungo però riesce a costruire nel tempo quello che in realtà vuole non come magari Baldini che andava un po' all'arrembaggio se così possiamo dire assolutamente sì andiamo ancora ai messaggi perché ce ne sono veramente tanti eh sì Simone c'è Claudio e diciamo emerge ancora anche quello che diciamo con Francesca non soltanto la squadra un po' spenta ma anche i tifosi buonasera a tutti il Palermo adesso le vincerà tutte ne sono sicurissimo scusatemi devo fare l'alcol test diciamo un po' di ironia amara assolutamente molto amara sì Tano Miceli sì nella lotteria tutto può succedere i miracoli si possono ripetere eh intanto però andiamoci ai playoff poi invece c'è Luca Testa che fa un bel complimento alla nostra Francesca un saluto che a Catania stiamo apprezzando per la sua bravura e competenza grazie Filippo un saluto da me mio figlio Francesco tifoso rosa nero ciao Filippo un grande saluto a voi ciao Filippo e ovviamente a tuo figlio ci seguono dalla provincia di Verona se ho letto bene esatto poi invece Simone Claudio sottolineo un po' quello che è stato il tuo discorso di poc'anzi di Corini capitano ho amato il Corini allenatore come tecnico lo sto però odiando hashtag Corini out un po' l'hashtag che si sta ripetendo ne parlavamo con lo stimato collega e amico Antonio Larrosa in occasione della linea diretta del lunedì Francesca dicevamo questo Corini in realtà al netto dei suoi errori non parlo solo di questa parentesi in rosa nero ha fatto anche delle buone prestazioni delle buone stagioni con delle squadre che comunque erano delle corazzate tant'è vero il Lecce col Brescia è riuscito a vincere il campionato cadetto cosa sta succedendo a Palermo partiamo dal presupposto che probabilmente questa non è una squadra così forte per puntare alle posizioni di vertice lo dicono i numeri ma è solo un problema dell'allenatore bisogna rifondare la squadra per il prossimo anno a cosa è dovuto questo calo così incredibile perché il girone di ritorno sembrava essere iniziato nel migliore dei modi sì assolutamente un girone di ritorno che sembrava essere iniziato benissimo con una squadra che collezionava tanti risultati utili consecutivi adesso vediamo una squadra che non riesce ad andare avanti che in realtà sembra aver fatto il famoso passo indietro che non si dovrebbe fare arrivati a questo punto della stagione abbiamo visto quest'anno un campionato abbastanza altalenante dall'inizio che ha iniziato il Palermo in sordina poi è riuscito a risalire un po' adesso nuovamente vediamo questi passi indietro nel momento in cui la squadra avrebbe dovuto fare il famoso esame di maturità per passare per arrivare a disputare questi playoff come dicevi tu e come abbiamo parlato anche all'inizio di questa stagione Eugenio Corini è arrivato a Palermo con tanta esperienza alle spalle nonostante qualcuno appunto fosse in dubbio sul suo arrivo a Palermo perché è un allenatore così dove è stato dove non è stato ma in realtà ha veramente una carriera alle spalle perché è stato in Serie B più volte è arrivato i playoff ha disputato i playoff ha vinto dei campionati anche in Serie A ha fatto dei campionati importanti col Chievo ricordo una una salvezza nella massima serie con quella squadra che sembrava praticamente condannata alla retrocessione in cadetteria Corini riuscì in maniera assolutamente incredibile a far salvare quella squadra però quest'anno qualcosa sta capitando sicuramente e tutto si può dire ma una cosa è certa Corini è stato messo dalla dirigenza del City Football Group nelle condizioni migliori per poter lavorare sì 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 assolutamente perché quando il tecnico è arrivato qui c'erano dei giocatori che erano stati scelti dal tecnico Baldini che poi alcuni li abbiamo visti andar via come Pierozzi o Stoppa e ne sono arrivati tantissimi che aveva richiesto il tecnico Corini l'abbiamo visto anche durante questo calci mercato invernale in cui sono stati veramente presi i famosi giocatori di categoria che voleva lo stesso mister e sono per esempio fra questi c'è Tutino c'è Verre dei giocatori che lo stesso allenatore durante le primissime conferenze stampa post chiusura calci mercato va dichiarato che erano quelli che in realtà voleva anche qui per esempio dei colleghi di Cosenza mi hanno detto ma come mai non ci ha fatto giocare sin dall'inizio il nostro ex del mesh Tutino che tra l'altro era stato tanto voluto dal tecnico in un momento in cui tra l'altro Brunori era rientrato da pochissimo infatti non l'abbiamo visto splendere al massimo dovremmo dedicare dalle tre alle quattro trasmissioni di Speciale Gold Sport perché ci sono tante cose da dire su questo giocatore i cui mezzi tecnici sono ovviamente fuori discussione però ancora non ha pienamente convinto e inciso mi risulta che uno dei motivi per i quali non sia stato confermato a Parma era proprio questo un giocatore non continuo sotto il profilo delle prestazioni un giocatore che chiedeva di giocare in un altro ruolo lui a Parma giocava perché Pecchia lo faceva giocare spesso ma da esterno lui voleva giocare più vicino alla porta le occasioni comunque le ha avute non è che abbia inciso più di tanto e facciamo una cosa andiamo agli ultimi messaggi perché poi ho il domandone finale che riguarda tra gli altri argomenti proprio Tutino e un possibile ballottaggio vado abbiamo Mutara che ci dice Pigliacelli Buttaro Matteio Marconi Sala Segre Verre Bro Tutino Soleri Brunori il modulo il 4-3-2-1 ma chissà se Carini non cambierà il suo 3-5-2 e ancora messaggi Gaetano Forza Palermo noi tifosi lunedì vogliamo 11 Leoni vinceremo con il Como e le prossime le vinceremo tutte Forza Palermo e io aggiungo sempre Con tutte queste penalizzazioni dice Emanuele e il caso Cagliari che sarebbe coinvolto nelle plusvalenze sarebbe bastato un percorso appena sufficiente per essere stabilmente tra sesto e ottavo posto e il mea culpa non devono farlo i tifosi e le società su questo dovrebbero riflettere Buon lavoro Allora andiamo al domandone per Francesca Catalano che riguarda insomma un possibile ballottaggio per la prossima trasferta contro il Como si riparte ovviamente parliamo dell'attacco si riparte da Brunori che è la certezza di questa squadra le certezze sono Piacelli tra i pali Brunori ovviamente in attacco a centrocampo abbiamo ipotizzato questa possibile formazione che sogniamo con Damiani in cabina di regia Gomez e verosimilmente uno tra Segre e Bro però vedrete che giocherà Gomez con Bro e Segre ne sono convinto di questo pardon con Verre e uno tra Segre e Bro pardon mi sto dimenticando ovviamente di Verre è in attacco chi gioca a fianco di Brunori perché gli esperimenti Soleri e Tutino ci sono stati entrambi ma secondo me dovrebbe giocare Soleri perché lo abbiamo visto un giocatore che inizialmente era il famoso entra e segna di questa squadra lo stesso tecnico se lo voleva un po' riservare per cambiare l'equilibrio della partita ultimamente l'abbiamo visto quando c'è stato il momento in cui Brunori purtroppo si è infortunato a seguito di questa famosa rovesciata che ha segnato questa famosa rete è stato sostituito proprio da Soleri Soleri che ha dimostrato di non essere solo un entressegna ma di riuscire a fare degnamente il suo ruolo il suo lavoro anche da titolare l'abbiamo visto anche con delle reti che ha siglato un calciatore che non solo diciamo così aspetta il pallone che purtroppo fa fatica ad arrivare dai suoi compagni degli altri reparti ma riesce anche a crearsi le varie occasioni un giocatore che abbinato a qualcun altro che sia Brunori che sia Tutino riesce bene a fraseggiare e a fare i giusti movimenti per cercare di disegnare e quindi mi auspico di vedere nuovamente questo duo formato da Brunori e Soleri Diciamo che Soleri ha dimostrato di poter dare maggiore profondità quando viene schierato in campo però è una mia idea e probabilmente rimarrà tale non c'è un feeling pazzesco con Brunori la sensazione è che i due ancora non abbiano capito bene quegli famosi automatismi Brunori non si discute campione eccezionale Soleri campione eccezionale però paradossalmente la coppia che ha funzionato meglio è quella composta da Soleri e Tutino però come fai a levare Brunori assolutamente perché quando gioca Soleri con Brunori Soleri gioca fanno fatica si pestano più i piedi Soleri gioca più in avanti e Brunori è costretta ad arretrare sì sì è assolutamente vero ma in realtà sono un po' tutti i giocatori che fanno fatica ad affiancarsi bene con con Brunori abbiamo visto quest'anno in cui la squadra il tecnico sta puntando a una squadra non solamente sul singolo come invece l'ha fatto Baldini che aveva incentrato un po' tutta la squadra su Brunori quindi tutti i palloni dovevano andare su Brunori che poi Brunori doveva finalizzare la situazione adesso invece la situazione è un po' diversa perché Corini tende a puntare su tutto il gruppo su ogni singolo giocatore soprattutto in attacco e sembrano appunto non comunicare bene ma in realtà appunto tutti i vari giocatori che sia Vido che sia Totino che sia Soleri con Brunori stesso un Brunori che tra l'altro viene anche servito poco dagli altri compagni di reparto infatti proprio per questo secondo me sta risentendo molto sia a livello personale appunto mentale non riesce a finalizzare perché tra l'altro gli arrivano pochi palloni è molto spesso fatica a crearsi da solo andarsela a prendere da solo sottoscrivo il tuo pensiero Francesca siamo arrivati ai titoli di coda della nostra trasmissione volata quasi un'ora in vostra compagnia e grazie per tutti gli spunti di riflessione che come sempre ci avete dato nel corso della nostra diretta grazie mille Gabriella Di Carlo ci rivediamo giovedì prossimo esatto grazie a te Simone e soprattutto a tutti voi per essere stati con noi grazie mille alla amica e collega di Palermo Live Francesca Catalano ci verrai a ritrovare almeno qualche altra volta assolutamente ciao Simone ciao Gabriella grazie sempre per l'invito è stato un piacere stare qui con voi saluto e ringrazio la nostra super regia coordinata da Roberto Lombardo e Giancarlo Sardo li ringrazio anche oggi una cartolina il segnale della nostra diretta Facebook e ovviamente ringraziamo anche Dorotea Giordano per la parte tecnica attraverso tifosipalermo.it buon proseguimento d'ascolto con la nostra ricchissima programmazione grazie a tutti grazie a tutti